Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su LeonTube, eccoci finalmente qui per vedere l'evento speciale McLaren Senna andiamo subito a vedere, ci sono un po' di livelli, oggi andremo a vedere il livello 1, siamo un po' in ritardo di un paio di giorni ci sono ben 24 livelli, gli ultimi 5-6 livelli sono tutti con l'auto, quindi la McLaren Senna con le varie stelle il resto sono tutte auto abbastanza comuni, tranne la F50 che c'era comunque la caccia all'auto la settimana scorsa quindi potreste aver fatto delle stelle, per la vantaggio se non ce l'avete c'è la caccia all'auto attuale il resto sono auto abbastanza comuni, se giocate da un po' di tempo ovviamente, altrimenti saranno un po' più difficili da avere andiamo subito a vedere questo livello 1, i premi, termina la gara, termina la gara, ben 20 volte e qui tanti gettoni, tempo con nitro 10 secondi e ci dà la bellezza di 500 gettoni andandolo a fare 20 volte e andiamo a prendere 4 progetti della McLaren Senna battendo il tempo di 1,27 secondi andiamo subito a vedere un ticket, quindi qui si possono fare le 20 condizioni subito diciamo e quindi andiamolo a vedere questo livello 1, pudong, shanghai 1,27, il tempo da battere, l'auto è prova gratuita e penso sia anche, non ci ho fatto caso, ma penso sia diciamo la famosa auto regolamentare, ossia il suo livello massimo carino lo spurgo centrale bello proprio centrale questo qui ah l'ho preso in due, hanno preso addirittura quel muretto quello spesso lo prende l'auto avversaria questa era la pista dell'ultimo round del GP, se non erro appena trascorso che non siamo riusciti a prendere la chiave terzo posto nel livello 4 e non abbiamo trovato la chiave nei pacchetti, peccato ma guarda è qua, 1,27, tempo battuto mi vorrebbe quasi da dire ampiamente, ma in realtà c'è chi farà dei tempi stratosferici vediamo se abbiamo fatto tutte le condizioni ok, perfetto, facciamo un altro giro e ovviamente ragazzi se io riesco a fare il tempo vuol dire che il tempo è fattibile perché come ben sapete ormai se mi seguite sono un giocatore medio ok, andiamo a vedere se riusciamo a rifarlo sperando di non fare mai crash questo sono solo 4, 4 progetti 4 tentativi andiamo a vedere questo secondo tentativo se riusciamo a rimanere sempre sotto l'1,27 diciamo che girando come prima anche con un crash dovremmo riuscire a stare sotto l'1,27 però ovviamente dobbiamo cercare di evitare tutti i crash possibili preciso, mamma mia ragazzi me la gufo da solo ok quindi ecco 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 Grazie a tutti. Andiamo a fare anche un pochino meglio di poco 21.483 quindi si riesce a fare il tempo abbastanza facilmente ci sono due obiettivi terminare la gara l'altro tempo con nitro 10 secondi quindi gli obiettivi diciamo delle condizioni del primo livello sono abbastanza semplici quindi terminiamo qui questo video ragazzi mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale ci vediamo presto con altri video ciao a tutti